Scopelos, Hovolo Beach, quel paese che si vede sul fondo è Neoclima, sempre qui a Scopelos. Nella parte ovest dell'isola, infatti sullo sfondo si vede la penisola del Monte Pelion è un po' più giù, un po' più basso, difficile da distinguere in questa foschia Schiatos. Anche qui l'acqua è molto trasparente, cristallina, vedo dei ciotoli di sasso sul fondo, sabbia qualcosa sulla spiaggia, non so se più avanti c'è sabbia, vediamo poi quando andiamo a fare il bagno. E' una spiaggia non tanto lunga, direi che sarà 200-250 metri circa. Per arrivare qui basta camminare da Neoclima, ci sono quegli scogli lì, è l'unico pezzo dove si cammina nell'acqua per pochi metri. Superato e qualche scoglietto quello d'acqua, stanno attenti a non scivolare, si cammina lungo questa spiaggettina e uno adesso decide di dover fermarsi. E qua, o se andare giù più in fondo, adesso verso la fine della spiaggia, dove c'è quella roccia che arriva al mare. Dietro quella roccia si dovrebbe vedere la spiaggia di Melia, o Melia, come gli accenti dove metterli, e la spiaggia di Castani, dove siamo stati questa mattina. Quindi a pochi chilometri l'uno dall'altro ci sono queste tre belle spiagge, molto simili dal punto di vista acqua, tutte belle trasparenti. C'è solo imbarazzo della scelta. Qui la spiaggia è molto stretta, come avete visto, pochi metri, perché dietro c'è subito una roccia molto alta. Non so, saranno 30 metri di roccia. La roccia è molto bianca, di conseguenza anche i sassi e la sabbia qui sotto sono di questo colore. Sono circa le 5, anche le 5 passate del pomeriggio del 12 agosto 2010. Come vedete non è una spiaggia molto affollata, tutto sommato. C'è più gente, se andate a Melia. Forse la gente piace le spiagge un po' più grandi e comunque quelle attrezzate. Quindi queste qua, poco attrezzate, c'è, devo dire, c'è molta meno gente. Quindi noi le preferiamo, ovviamente. Ecco là qualcuno che sta, non so se sta arrivando o se sta andando via. Allora, vediamo. Sta arrivando nell'unico pezzo, diciamo, dove c'è da mettere i piedi in acqua per arrivare qua. Et voilà. La mia compagna d'avventura. È di vita. Intenta leggersi uno dei vari libri che ci siamo portati per le vacanze. Sempre sulla stessa spiaggia. Un po' più in là. Ogni tanto c'è qualche riedranza. Qua c'è qualche scoglio che riesce. E' qui la parte finale della spiaggia, dove è un po' più largo. Adesso ci avviciniamo un po' alla fine della spiaggia. Cammino piano per via dalle vibrazioni. Non penso che ci sia molto da vedere. Marte è là in fondo. Meno che salendo solo là in cima si vera qualcosa. Grazie.